Il Signore sia con voi, al Vangelo secondo Luca. In quel tempo gli Apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se è un servo ad arare o a pascolare il greggio, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti, i fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo Il Vangelo di questa ventisettesima domenica del tempo ordinario, tratto dal capitolo diciassettesimo di San Luca, ci presenta un profondo atto di sapienza e di umiltà degli Apostoli. Gli Apostoli arrivano sinteticamente a una conclusione. Non abbiamo fede, non ne abbiamo abbastanza. Stiamo con Gesù, siamo sempre con Gesù, camminiamo con Gesù, mangiamo con Gesù, Dormiamo con Gesù, parliamo con Gesù e di Gesù, ma la nostra fede non è sufficiente. Questo è il dramma della vita cristiana, che si può essere rivestiti di qualsiasi panno, che si può avere qualsiasi pratica religiosa e non avere sufficiente fede. E Gesù lo riconosce. Non è che gli dice, ma no, cosa dite, voi avete lasciato tutto per me, voi mi state seguendo, voi avete lasciato la casa, i campi, la famiglia, vivete solo con me, viviamo una vita di povertà, viviamo... No, no, Gesù non dice niente di tutto questo. Gesù dice, è vero. È vero quello che dite, voi non avete fede. Non so se avete mai visto un granello di senapa, no? È un granello, non so, è grande, forse è più piccolo di un chicco di riso. Cioè, proprio, è anzi, più piccolo di un chicco di riso. È piccolissimo, un granello di senapa è piccolissimo, è proprio come se fosse la testa di uno spillo. Gesù dice, la vostra fede è meno grande della testa di uno spillo. Siamo messi male. Perché se voi aveste fede tanto quanto la testa di uno spillo, voi potreste spostare un gelso. Ma loro non possono. Perché non hanno neanche quella. E loro dobbiamo stare molto attenti. Perché potrebbe succedere che non abbiamo la stessa umiltà, che è verità, la stessa sapienza degli apostoli, che si sono guardati con realtà e hanno detto non ci siamo. Potremmo illuderci, potremmo credere di avere fede perché facciamo, perché siamo, perché stiamo, perché andiamo, perché abbiamo perso, perché abbiamo rinunciato, perché abbiamo lasciato, per Gesù, come hanno fatto loro, e di fatto poi non avere nessuna fede. Che cos'è questa fede? Cosa vuol dire avere fede? Vedete, avere fede mi verrebbe da dire che è tutto. Avere fede è veramente tutto. Perché tu puoi credere veramente, totalmente in una persona quando veramente con quella persona è nato un rapporto d'amore. Ma vero, non l'amore take away di oggi, eh? Non quella roba lì da tavola calda. Non è quello lì l'amore. L'amore non è il cornetto che mangiamo. L'amore non è il sentimento. Non è tu mi piaci, io ti piaccio, noi ci piacciamo. Non è questo l'amore. Non è l'effervescenza del cuore. Non è io sto bene con te e tu stai bene con me. Tutta questa pacottaglia non ha niente a che vedere con l'oro purissimo dell'amore. L'amore è scegliersi. L'amore è fedeltà. L'amore è totalità. L'amore è sacrificio. L'amore è dolore. L'amore è offerta di sé. L'amore è speranza. Tutto un'altra dimensione. Ma se non c'è amore non ci può essere fede. Io non posso credere in colui o in colei che non amo. Non è possibile. Non è proprio possibile. Ed è proprio il problema fondamentale qui è che l'amore è ciò che ancora non è maturato, non è cresciuto, non è, non si è sviluppato. C'è una conoscenza, c'è una frequentazione, ma da lì all'amore ce ne passa. solo che capite se non c'è la fede a un certo punto gli apostoli si sono guardati e devono aver detto va bene tutto, ma se non abbiamo la fede, cioè se noi veramente non ci crediamo in quest'uomo di cosa stiamo parlando, cioè cosa stiamo facendo qui? Cosa stiamo portando avanti? Noi stiamo perdendo, dando, spendendo la nostra vita per chi? Se io veramente non ci credo e non ci credo fino in fondo, tutto quello che sto facendo è inutile, non serve a niente. E infatti, infatti, poi alla prova del nove non hanno retto. Quando è arrivato il momento di dimostrare dopo circa tre anni di frequentazione e di compagnia con Gesù, di dimostrare la loro fede, cioè il loro amore, sono passati dal dormire al fuggire, al tradire, al rinnegare. Beh, insomma, buono, no? Mi sembra proprio il fallimento totale, ma legato che cosa? Legato che tutto quel tempo che hanno vissuto insieme non hanno capito niente di fatto. Credevano loro di capire, ma non hanno mai veramente conosciuto Gesù e quindi non è mai potuto sbocciare questo rapporto di fede e di amore. e quindi appena è arrivata la persecuzione che è quella realtà, quel fuoco che prova tutto, quel setaccio che veramente fa vedere cosa c'è dentro, quando è arrivata la persecuzione uno dice va bene lasciare la casa, va bene lasciare la famiglia, va bene lasciare i soldi, va bene lasciare le barche con i pesci e le reti e il padre e va bene lasciare tutto, ok, possiamo anche farcela, ma lasciare la mia pelle, la mia vita qui per lui? No, perché io non ci credo fino a quel punto, ci credo un po', ma non fin lì e quindi se ne vanno e quindi questo Gesù tanto sannato, tanto acclamato, tanto benedetto, tanto di qui, tanto di là, alla fine questo Gesù cosa rimane? Solo, solo, perché questi non ci credevano, e allora capiamo quello che dice San Paolo nella seconda lettura della seconda lettera a Timoteo dove San Paolo dice, sembra che era scritta ieri sera questa lettera a San Paolo, non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro né di me che sono in carcere per lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo, sì, solo sei fede, se no, no. È fatto di questi giorni, no? Adesso tra poco ci strapperanno i crocifissi anche dalle chiese, perché visto che li stanno per strappare anche dai luoghi pubblici, tra poco ci porteranno via i crocifissi dalle chiese, perché magari lo scarabeo che sta passando fuori dalla strada potrebbe rimanere sconvolto dal crocifisso che c'è in chiesa. Boh, non so, mi sembra di vedere certe scene della Cina, ma non della Cina del 1300, è della Cina di oggi, di ieri. Adesso manca solo che arrivano le ruspe, buttiamo giù le chiese. E noi? Tranquilli. Qualcuno si è sconvolto? Oh, per l'amor del cielo, andiamo avanti a mangiare la nostra pasta asciutta, il nostro panino, la nostra carne, a fare il nostro sport, a portare avanti i nostri schemi, va tutto bene. Per l'amor del cielo. L'importante è che ci sia il pallone. Ecco, i partiti di calcio, le nostre cose. Poi noi andiamo avanti, è un po' come sembra di vedere il film di Titanic, no? La barca, la barca, la nave sta affondando e quelli continuano a ballare, a cantare. Che uno dice, scusami, ma ti stai rendendo conto che stai per morire? Cioè, ti rendi conto che la barca è lì così, pendenza mille, tu stai andando dritto nell'abisso e tu sei che continui a ballare e a danzare? Ma, cioè, due conti, uscire, guardare fuori, renderti conto di quello che è succedendo? Magari sì, si potrebbe anche fare. No, noi no. Noi andiamo avanti a essere sempre più storditi, sempre più persi, chissà dove, sempre più timidi, sempre più paurosi e sempre più incerti della nostra identità. Per cui, un crocifisso, stranamente, dopo duemila anni, è diventato un problema sociale. che quando mai un crocifisso ha causato un dramma, una, non so, una sofferenza psichica, quando mai qualcuno è andato fuori di testa perché ha avuto il crocifisso in classe? Noi siamo tutti cresciuti, no? A scuola, siamo andati tutti a scuola con il nostro bel crocifisso in classe. Avete mai avuto turbamenti psicosomatici perché avevate il crocifisso sopra la cattedra? Penso proprio di no. Sono tutti cresciuti sani, tranquilli, sereni, no? E cos'è cambiato? Niente, non è cambiato niente. Siamo cambiati noi, non il crocifisso. Ormai, dentro a questa società, ci può stare di tutto e tutti, tranne che Gesù Cristo. l'unico che è morto per tutti deve uscire. L'unico che ha fatto solo del bene a tutti se ne deve andare. Dopo ci lamentiamo che questo mondo fa pena. E certo, certo, avete mai visto un mondo senza Dio non fare pena? avete mai visto una realtà devitalizzata del suo creatore essere bella? Ma questo non è possibile. Non sappiamo benissimo che non è possibile. E San Paolo ci dice non vergognarti, e lo dice ciascuno di noi, non vergognarti di dare testimonianza a Gesù. Dove? Ovunque. Ovunque. Perché devo aver vergogna a fare un seno di croce ovunque sono? Perché devo aver vergogna di dire la mia fede? Perché devo aver vergogna di dire che sono di Cristo? Perché devo aver vergogna di dire che vado a messa, che mi confesso, che prego, che, che... Perché devo aver vergogna? fa del male a chi questa cosa? A nessuno. E allora perché devo aver vergogna? Perché gli altri non la condividono fatti loro. Ma io perché devo aver vergogna di Gesù? Che male ha fatto a te Gesù? Io devo avere vergogna. Soffrire per il Vangelo, noi soffriamo per il Vangelo? Probabilmente arriveranno giorni e forse non troppo lontani dove saremo chiamati a scegliere se soffrire o no per il Vangelo ma veramente non a parole. Però anche adesso no? Ce lo dovremmo chiedere io faccio scelte che mi fanno soffrire per il Vangelo? Cioè io ho perso vita ho perso qualcosa qualcuno per Gesù per il Vangelo dovendo scegliere tra Gesù e altro o altri io ho scelto Gesù per cui ho perso altro o altri perché se no capite la nostra fede è da vetrina cioè non c'è è un soprammobile ma per me non è non è parte di me non appartiene a me e oggi oggi succede la cosa stranissima che se tu dici di credere in Gesù tu sei un fondamentalista e sono sempre iniziate così le persecuzioni di regime sempre cioè i cristiani venivano mandati in galera venivano torturati uccisi allora come oggi perché vengono accusati di essere dei rivoluzionari e dei contro allo Stato della gente che sì ma non è vero questa cosa non è vera semplicemente tu stai affermando che credi in Dio e non nelle bestie non credi negli animali non credi negli uomini non credi nelle cose ma credi in Dio e allora come oggi venivano uccisi perché erano contro l'imperatore contro il re contro lo Stato contro non è contro nessuno Gesù non è contro nessuno Gesù è Dio e al massimo siamo noi ad essere contro di Lui e allora dobbiamo forse prepararci forse dobbiamo chiedere a noi stessi se siamo pronti se questa fede vive dentro di noi se stiamo chiedendo a Gesù ogni giorno la grazia di accrescerla perché veramente diventi una fede capace di reggere che cosa è di reggere la non vergogna e di reggere la sofferenza per il Vangelo perché se non c'è questa fede non c'è questo amore io non potrò soffrire per il Vangelo io non potrò non vergognarmi di Gesù perché basterà che uno mi guardi in modo un pochino più intenso di un altro che io subito comincio a tremare e comincio a dire io no non conosco Dio io no non ho non ho fede io non sono un cristiano io non vado in chiesa non ho io io dico quello che dicono tutti sostengo il pensiero unico che poi non so che cos'è però l'importante è che sia quello che dicono tutti c'è chi abbia salva la vita non dimentichiamoci che noi non siamo eterni e tra un po' chi prima chi dopo moriremo e quando ci presenteremo davanti a Dio non al primo carciofo che passa per la strada ma a Dio quando saremo al cospetto di Dio di tutti gli angeli di tutti i santi della Vergine Maria per il nostro giudizio noi cosa diremo cosa porteremo come testimonianza della nostra vita non potremo dire al Signore tu sei morto per me e anch'io sono morto per te sapete qui dura ancora un po' di anni là dura per sempre sia rodato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti